Lunedì alle 20.45 al Piola di Vercelli un nuovo episodio del derby delle risaie tra i padroni di casa della Pro e il Novara. Nelle scorse ore ha parlato il tecnico degli azzurri Giacomo Gattuso che ha espresso i suoi pensieri sulla situazione attuale della squadra e sulle aspettative per la partita. Arriviamo a questo derby dopo una settimana difficile, con risultati negativi, ha detto Gattuso. Tuttavia, vedo questa partita... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.